Firenze Smart Incidente al chilometro 41 tra Santa Croce sull'Arno e Montapoli Val d'Arno in direzione Mare Sul raccordo Siena-Firenze Rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in direzione Siena Si ricorda che per la giornata di domani, giovedì 18 luglio, è stato indetto uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico Che in Toscana interesserà Autolinea Toscana e GEST Info sui nostri canali social Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!